Zero emissioni, zero rumore, piacere di guida unico. Nuova Citroën EC4 100% electric è la prima vettura totalmente elettrica della marca francese che coniuga uno stile deciso dalle linee moderne a una comodità ai massimi livelli, abbinata a un'eccezionale abitabilità. Aerodinamica e fluida offre un assetto rialzato e una sensazione di protezione e robustezza a cui aggiunge un comfort impareggiabile grazie ai sedili Advanced Comfort, un'innovazione esclusiva Citroën al servizio del benessere a bordo. Nuova Citroën EC4 è una vettura compatta che offre una grande libertà di movimento potendo contare su un'autonomia dichiarata fino a 350 km. Così decidiamo di fare un tuffo nella natura, sui monti al confine tra l'Umbria e le Marche, alla scoperta di luoghi selvaggi e incontaminati. Su strada, nuova Citroën EC4 si distingue per l'assoluta silenziosità di marcia, abbinata a un comfort da prima della classe, grazie a un eccellente lavoro delle esclusive sospensioni con smorzatori idraulici progressivi. Il motore elettrico da 100 kW spinge con grande fluidità, l'accelerazione è pronta e immediata. Percorriamo la strada che porta al parco eolico di Fossato di Vico, un luogo da dove si ammira un incredibile panorama e dove due generatori eolici producono energia elettrica per circa 3 milioni di kWh all'anno, con un risparmio di 1800 tonnellate di CO2. Anche nuova Citroën EC4 è una campionessa di ecologia. In marcia non emette neanche un grammo di CO2 e soprattutto è silenziosa. Le esclusive sospensioni assorbono in maniera impeccabile le asperità del fondo stradale. La guida è veramente facile e comprende tre modalità. Normal, Eco per massimizzare l'autonomia e Sport dove la potenza del motore si esprime ai massimi livelli. Scendendo dal parco eolico attraversiamo il piccolo borgo di Fossato di Vico, il cui centro abitato è ricco di edifici, abitazioni e opere di architettura urbanistica risalenti all'epoca medievale e dove, nonostante gli spazi angusti, nuova Citroën EC4 si muove con sicurezza e agilità in perfetto silenzio. Il nostro giro sui monti tra Umbria e Marche prosegue sul vicino Monte Cucco che si erge fino a 1560 metri di quote. Un parco tra i più belli del centro Italia con una strada panoramica che conduce fino alla sommità da godere nel silenzio della nuova Citroën EC4. Certo, nelle salite è molta l'energia necessaria, ma di contro, in discesa e in rilascio, la vettura ricarica parzialmente la batteria utilizzando la funzione brake, attivabile con la pressione di un pulsante sul tunnel centrale, che aumenta il freno motore e consente il massimo recupero dell'energia in frenata e decelerazione. A proposito di ricarica, nuova Citroën EC4 può essere alimentata con una presa domestica, con una wallbox, oppure con una colonnina fast charge da 100 kW che in mezz'ora circa riporta la riserva di energia all'80%. Elegante nello stile, originale, comoda e spaziosa, silenziosa, efficiente, con costi di esercizio estremamente economici e soprattutto a zero emissioni, la nuova Citroën EC4 è la vettura compatta elettrica ideale per spostarsi quotidianamente in ambito urbano, con libero accesso alle zone a traffico limitato, ma anche per gite fuori porta con la famiglia. Il tutto nel massimo rispetto.